Oggi parliamo di un brand di profumi che ha una referenza in particolare che secondo me vorrete tutti. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Cristina e oggi parliamo come sempre dei profumi. Devo dire che io ho già in mano da un po' di tempo le referenze di questo brand però me ne sto studiando un pochetto per cercare di essere più precisa possibile nella mia recensione. In particolare un profumo mi ha stupito ma direi che ne parliamo quando arriva il momento. Intanto cominciamo col dirvi di che brand si tratta ed è questo. Si chiama Floridia, è un brand napoletano, infatti c'è scritto Floridia Napoli. Il nome trae ispirazione comunque dal parco di Villa Floridia che io non sono mai stata a Napoli purtroppo mea culpa ma credo si trovi, almeno così ho letto, nel vomero appunto in uno dei quartieri di Napoli. Quello che il Floridia racconta diciamo con i suoi profumi sono delle storie, delle vere e proprie storie che raccontano sì dei luoghi appunto di Napoli ma soprattutto delle storie, mi ripeto. Perché insomma adesso lo vedremo, ogni profumo ha comunque una storia particolare, c'è proprio un riso di racconti e storie che evocano tempi passati o comunque luoghi. Io qui ho sia il sample kit, che è questo molto molto bello, che due profumi in full size. Il sample kit è fatto così, i colori di Floridia sono questi, il giallo e il blu elettrico praticamente. Io qua c'è un po' di confusione perché dentro ci sono tutte quante tipo le spiegazioni appunto, questi fogliettini dove ci sono tutte le spiegazioni del profumo diciamo specifico. e io direi di cominciare subito perché sono abbastanza e io volevo parlarvi un po' di tutti. Ma partiamo da lui che si chiama Amalfi Costantinopoli. Tantissime note, sapete io non ci vedo, mi devo mettere gli occhiali. In testa c'è caprifoglio, bergamotto, geranio, mughetto e rosa, fieno, appena falciato. Nel cuore c'è eucalitto, gardenio, gessomino, ozono e coriandolo, nel fondo vetivici, presso abete e muschio di quercia. Questo profumo è dedicato allo scambio di merci, tra cui spezie, che c'era comunque tra la Repubblica Marienara di Amalfi, quindi insomma la zona napoletana, e appunto l'impero bizantino. Questo profumo appunto tra ispirazione appunto da quella che era questo scambio di merci, avvenuto tra il IX e il XII secolo, quindi si cerca di ricreare un po' queste atmosfere un po' arabeggianti. Devo dire che questo qui è uno dei miei preferiti, perché io sento, a me piacciono molto i profumi speziati, e qui sento una parte speziata abbastanza intensa, ma è parecchio, parecchio contrastata dalle note, secondo me, orientali. Questo secondo me è molto unisex, quindi non è un profumo dolce, però risulta comunque morbido, resinoso, sono delle spezie, ecco, molto morbide, non sono delle spezie secche, o comunque con degli odori troppo pungenti. Passo direttamente a lui, che ho in full size, appunto come vi dicevo, questa è la confezione delle full size di Floridia, ve le faccio vedere anche internamente, così, diciamo, ci possiamo capire un pochino meglio. E questo è il packaging primario, secondo me è molto bello, vabbè, sapete che io ho una passione per l'oro, quindi si vede, direi, io porto il jelly praticamente solo d'oro, cioè color oro, comunque, e quindi mi piace molto. Questa boccettina è leggermente vintage, mi ricorda un pochino i profumi, diciamo, di un tempo passato, per cui mi piace parecchio. Allora, questo è odorosa ginestra, e qui abbiamo ginestra gessomino e tuberosa nella testa, nel cuore c'è peperosa timo bianco, mentre nel fondo c'è incenso, ambra e muschio. Questo è dedicato, diciamo, a quelle che sono le pendici, dal famosissimo vulcano, che è il Vesuvio, e quindi dedicato, appunto, a queste ginestre che crescono alle pendici di questo vulcano, e devo dire che, allora, io sono sincera, non conosco l'odore delle ginestre, e nei profumi non avevo mai avuto il piacere, comunque, di incontrare la ginestra, almeno non come nota predominante. Io qui fatico a sentire, comunque, qualche nota predominante, nel senso che non riesco a sentire gessomino e tuberosa, che sono note, comunque, veramente abbastanza intense, che solitamente danno, proprio, un'impronta ai profumi dove, insomma, sono inserite, ma qui sento un profumo molto pudré, con un allure molto, molto retro, molto delicato, diciamo che non sa di talco, non sa di cipria, però è comunque cipriato, quindi è proprio pudré, ed è veramente molto bello, proprio, sapete che io adoro questi profumi che sanno un pochino di vecchi, vecchi cosmetici, questo mi ricorda un odore non rossettoso, ma cipriato. Passiamo adesso a Golfo Mistico, che io ho appena spruzzato qui sulla Mouillette, ci sono note acquati che sale marino, nel cuore c'è anguria e note zoniche, mentre c'è legno di papiro, ambra, alga e muschio sul fondo. Mi metto e mi tolgo gli occhiali continuamente, perché se li tengo, la luce che sto utilizzando per poter far sì che voi mi vediate, riflette e non riesco, insomma non riuscire a stare a vedere il video, ecco, sarebbe fastidioso. Comunque questo profumo è dedicato ovviamente a quello che è il Golfo di Napoli, quindi questo scorcio meraviglioso che tutto il mondo ci invidia, dove si incrociano comunque paesaggi stupendi, naturali come il mare ovviamente, la scogliera, ma anche diciamo arte, quindi insomma è un profumo con delle note zoniche ovviamente, ma ci sono anche note particolari come quella del papiro, che è veramente, cioè questo è un marino molto particolare, devo dire la verità, cioè questi profumi hanno secondo me bisogno, per essere ben capiti di essere ascoltati molto bene, sono dei profumi molto interessanti secondo me, ma se hanno usati con troppa leggerezza rischiano di non rivelare tutta la loro bellezza, io per esempio in questo Golfo Mistico sto trovando moltissima bellezza, sapete che io amo molto i marini, ma in questo caso proprio sento tantissimo, queste note zoniche che io adoro, ma riesco a percepire anche una nota particolare, che è quella del papiro, che io conosco bene perché ho dei profumi con una nota di papiro, ed è veramente molto molto bella, questa è una nota legnosa, quindi di papiro, non c'è proprio il papiro, ma il legno, che dà questa profondità, c'è poi questa nota di anguria che dà questa spinta molto alla parte marina e la rende molto rotonda, vi consiglio di sentirlo se vi piacciono i profumi marini. Passiamo a questo che si chiama Studio Notarile Via Chiaia, io leggo, Bergamotto, Nero, Lili, Lime, Rosa da Mascene, Basilico, nel cuore c'è Lavanda, Muschio di Quercia, Favatonca, Ribes Nero e Legno di Agar, Cuoio, mentre nel fondo abbiamo Ambra, Muschio e Assoluta di Iris. Qui appunto con il nome del profumo, Floridea ci porta in uno studio notarile di Via Chiaia, che è un quartiere, una zona di Napoli molto, diciamo, elegante, ecco, quindi nel cuore, nella parte elegante di Napoli, quindi all'interno di questo studio notarile si possono sentire appunto gli odori, è molto bello questo profumo qui perché si sentono bene gli odori che ci sono appunto dentro lo studio notarile, questi libri, questi grossi tomi messi in fila uno vicino all'altro, Cuoio che sta a indicare magari queste 24 ore come utilizzate o queste cartelle particolari dove vengono conservati questi documenti molto importanti, quindi questo è un profumo, secondo me è assolutamente unisex, io avrei detto fosse comunque maschile, invece no, è molto unisex, ma veramente con un'eleganza estrema, un profumo non urlato, molto delicato, persistente, ma non con un'eccessiva scia, quindi insomma un profumo che voi sicuramente utilizzereste veramente in un'occasione come quella di uno studio notarile, quindi un luogo abbastanza formale dove non è indicato utilizzare dei profumi cafoni, ecco questo è il contrario del profumo cafone. Ora vediamo a questo che si chiama La Suprema, che è uno dei miei preferiti, questo è il racconto, di quella che è stata una famosissima casa d'appuntamenti napoletana, proprio nel quartiere di Via Chiaria, quindi uno dei più eleganti di Napoli, e questo profumo racconta proprio di una donna che si prepara, quindi si imbelletta a uno specchio, si infila, si mette una colana di perle. Questo profumo è bellissimo secondo me, perché riesce molto a centrare appieno la figura di questa donna, cioè è un profumo che è nello stesso tempo delicato e aggressivo, cioè bergamotto, gelsomino e rosa nella testa, quindi abbiamo una testa comunque, sì, aggrumata ma fiorita, perché secondo me la rosa e il gelsomino si fanno un pochino a braccetto e danno subito quel senso di estrema femminilità. Poi c'è un cuore ovviamente di assoluta di Iris che ci regala questa immagine di questa donna appunto, che si dà a questo rossetto, a questo specchio appunto di questa antica toletta e nel fondo c'è sandalo e muschio. Allora questo profumo in realtà secondo me non è così, cioè ha questa parte aggressiva che probabilmente è data dalla sensualità del gelsomino, che si sente parecchio, ma è un gelsomino molto polveroso anche qui, quindi la polverosità dell'Iris sovrasta, diciamo a volte l'indolicità che potrebbe avere il gelsomino e ce lo fa diventare comunque più gentile, quindi questa è una sensualità che si vuole attrarre, vuole ammagliare, vuole attirare a sé, ma lo fa in modo molto delicato, quindi non è veramente un profumo aggressivo nel senso di, anche qui mi ripeto, cafone, ma in realtà è un profumo anche qui polveroso. Questo Iris per me è bellissimo perché è un Iris molto delicato, c'è un che proprio di burro di Iris quasi, che però non è prepotente, è ben visibile ma non troppo prepotente, veramente bellissimo questo Suprema. Un altro profumo che mi ha veramente rubato il cuore è questo che si chiama Faccia Gialla e che è dedicato comunque al Santo Patrono di Napoli che è San Gennaro, proprio perché questo Santo ha il viso, il volto d'oro, è soprannominato così dai napoletani Faccia Gialla. Viene portato in processione tutti gli anni il 19 di settembre e questo profumo vuole ricordarci la sensazione che si prova entrando all'interno del Duomo di Napoli. Quindi ovviamente abbiamo un profumo che è incensato, e qui troviamo mandarino di Sicilia, geranio d'Egitto e fiori d'arancio nella testa, c'è poi Ribes Nero, Pacciuli, Sandalo, Legno di Cedra e Zafferano nel cuore, mentre nel fondo c'è Ambroxan, Muschio. Ma comunque sono presenti nelle note, incenso, mirra, c'è delle note, allora è un incenso piuttosto ecclesiastico, questo piacerebbe moltissimo, mio marito infatti se lo sente, secondo me se ne innamora. Allora, è un po' strano e particolare, nel senso che secondo me qui, anche la mirra, insomma delle note un po' più forse considerate rotonde, più morbide, più dolci, danno proprio il senso dell'entrare veramente all'interno di una basilica, di una chiesa, di un Duomo, perché io sento tantissimo l'odore dell'incenso ecclesiastico, ma riesco a sentire anche questo odore tipico, che ora non so se sto dicendo una stupidaggine, oppure anche voi avete questo sentore, quando comunque entrate in alcuni luoghi, dove si trovano dei mobili di legno, soprattutto antichi, io non riesco a capire se siano loro che emanano questo odore nell'aria, oppure probabilmente i prodotti che sono utilizzati per conservarli, però nelle chiese secondo me non c'è soltanto odore di incenso, ma c'è questo odore proprio delle panche, l'odore degli ingilocchiatoi, c'è l'odore dei confessionali in legno, quindi queste chiese antiche, non quelle moderne ovviamente, hanno questo odore misto legno, misto legno appunto incenso, e prodotti più dedicati, come se fossero odori più dedicati, scusate, come se fossero i prodotti utilizzati veramente per conservare questi oggetti, ecco, questo sta proprio di quello, quindi effettivamente se hanno usato adotti chiusi, sembra di entrare in una chiesa barra basilica, e quindi proprio nel Duomo di Napoli. Io non me lo volevo tenere per ultimo, non mi voglio tenere troppo sulle spine, ma vi parlo di lui che è quello che mi ha rubato proprio il cuore, che è lui, che si chiama Premiata Pasticceria Napoletana, lui ce lo spruzziamo proprio addosso, allora io con lui ho avuto una storia particolare, l'ho sentito per la prima volta su Mouillet, e devo dire la verità, non mi aveva colpito quasi per nulla, cioè io non l'avevo capito questo profumo, è un profumo dedicato appunto alla pasticceria napoletana, quindi sfogliatelle, babà, ma anche spezie, rum, vi leggo le note prima di tutto, che sono miele, fiori d'arancio e limetta, cannella e caramello, pacciuli ed iris. Questo profumo secondo me, ripeto, lo spruzzai su Mouillet, nemmeno quando l'ho avuto io, quindi non qui da me, e non mi convince, cioè non è che non mi convince, non l'avevo capito, non l'avevo compreso, ed ero rimasta un po' così, no? Devo dire la verità, poi è successo che mi è arrivato appunto il sample kit con le due full size che ho ricevuto, e il sample di premiata pasticceria napoletana mi è caduto e si è rotto. Io poi, cioè, per tutta la giornata, entrando in questa stanza, che è quella dove io registro i miei video, il mio studio, dove lavoro, dove comunque ho i miei profumi, sentivo questo profumo paradisiaco e non riuscivo a capire che cosa fosse. Era un profumo gourmand, che però non era un gourmand semplicissimo, ma era un gourmand di quelli belli, complicati, eleganti, particolari. Immediatamente, a me è arrivata alla testa un'immagine stupenda, io ho un po' la sindrome di Stendhal da profumi, mi so di rischiare di essere, insomma, considerata, nelle migliori delle ipotesi, pazza, probabilmente lo sono, ma io ho a volte, veramente, una sorta di sindrome di Stendhal, quindi io entro all'interno di un profumo e alla mia mente arriva immediatamente una specie di immagine che nemmeno magari esiste, ma che mi arriva proprio forte come un pugno nello stomaco. Ecco, questo profumo mi ha evocato immediatamente un vicolo di Napoli dove io non sono mai stata in vita mia, quindi veramente cioccata nella testa, un vicolo di Napoli dove c'è questa piccola pasticceria, dove c'è un'insegna anche un po' sgarruppata, ma una delle pasticcerie migliori, quindi dove la domenica o durante le feste comandateci a una fila chilometrica, con le porte aperte è questo odore che esce, questo misto di dolci tipici napoletani, io non so se voi siete mai entrati in una pasticceria napoletana, io ne ho una qua nella mia città, insomma, nella città dove sono nata, non quella dove vivo ora, ma quella dove sono nata, e devo dire che l'odore che si percepisce dentro una pasticceria napoletana, quando si fanno le sfognatelle, i babbà, le zeppole di San Giuseppe, tutte queste cose, è molto diverso dall'odore di una pasticceria tradizionale, cioè quella, insomma, magari con vignè, cannoli, eccetera, eccetera. Questo odore, secondo me, si percepisce molto bene in premiata pasticceria napoletana, perché si sente la tutta dolcezza, no? Di queste paste, questi dolci, ma anche l'odore più pungente di alcune spezie e leggermente busi dato da questi così di cuori che vengono utilizzati appunto per le varie bagne che si fanno appunto in molti dei dolci tipici napoletani, quindi papà, etch, etch, no? Quindi penso a rum, eccetera, eccetera. C'è un leggero, un leggero sottofondo incensato che regala a questo profumo non un odore di incenso per nulla, ma è come se ci fosse una folata di vento che mescola in questo vicolo questi due odori. Questo vicolo napoletano è abitato quindi da questa pasticceria ma di fianco ha una piccola chiesetta che anch'essa ha le porte aperte e al centro di questo vicolo si mescolano questi due odori rendendo un profumo veramente meraviglioso. A me è un profumo che è anche molto ricordato il Natale perché questo sentore dolce, tipico di dolci, appunto gourmand molto gourmand mescolato a questo piccolo odore di incenso mi ha proprio ricordato le feste le festività comunque sono festività cristiane che si festeggiano a casa mangiando dolci e tante altre neccornie ma si festeggiano anche in chiesa quindi onorando tutti quelli che sono insomma i crismi della cristianità. Come si faceva a cercare di raccontare Napoli senza parlare di capri? non si può quindi a capri c'è un posto che si chiama Tragara da cui trae appunto ispirazione a questo profumo che si chiama proprio il tramonto a Tragara questo luogo particolare è un luogo famosissimo per avere i tramonti tra i più belli al mondo decine decine centinaia di migliaia di fotografi pittori artisti hanno cercato di prendere catturare quel momento ma non ci sono mai riusciti Floridia ci prova attraverso questo profumo ci regala questo profumo che ha in testa la violetta l'ilanghi il bergamotto il mandarino l'assoluta di fiori d'arancio nel cuore troviamo osmanto pepe di shishwan mentre nel fondo c'è pacciuli ed iris quindi questo profumo è un profumo molto molto secondo me più classico a me ricorda leggermente un profumo che utilizzavo negli anni 90 che non ricordo però il nome che mi piaceva però moltissimo perché mi ha proprio ricordato quel senso un profumo molto caldo avvolgente dolce ma non gourmand quindi è un profumo fiorito che sostanzialmente vuole ricordare quel momento del tramonto che è un momento comunque non so viene in mente il colore rosso il colore arancione il colore rosa guardando un tramonto e vengono in mente questi colori sapete che io spesso faccio questa associazione mentale con i colori per quanto riguarda i profumi mi succede spesso ed effettivamente questo profumo ha questi colori che ricordano un tramonto qui abbiamo termi imperiali dedicato alle termi di Bahia o di Baia credo sia Bahia perché non c'è l'accento sulla I chiedo scusa ma io ripeto non conosco Napoli purtroppo spero di rimediare un giorno e chiedo Venia veramente sono queste termi con queste vasche fatte con questi marmi pregiati preziosi mosaici eccetera qui sono delle termi molto belle molto caratteristiche qui c'è cardamomo in testa cisto labdano pavaton calenio di cedro sandalo misore credo che sia qualcosa di bosuella carteri muschio e amretta io credo che questo profumo abbia quasi certamente delle note molecolari perché in effetti è un tipico profumo non di quelli che non si sentono e che sentono solo gli altri no quindi stare tranquilli che si sente ma è un tipico profumo di quelli che ha quel sentore molecolare quindi saldi pulito è un molecolare chiaramente quindi penso azzeccatissimo perché comunque quando pensiamo alle terme comunque questi luoghi pensiamo comunque a profumi che ricordano la pulizia in qualche modo e in effetti questo profumo è un profumo che sarà di pulito in quel senso appunto tipico dei profumi che sono profumi molecolari a me piace molto perché sapete che a me piacciono tantissimi profumi molecolari che stanno di pulito io insomma ho utilizzato per tantissimi anni questa tipologia di profumi per cui con me andiamo a nozze eccoci all'ultimo che si chiama ex manifattura tabacchi dedicato appunto a quella che era questa zona ad esti Napoli dove c'era questa manifattura tabacchi e dove gli operai esperti trasformavano le foglie di tabacco essiccato arrotolando la mano in cilindri di carta ecco quindi proprio questo questo profumo ricorda l'aroma piacevole che comunque queste foglie di tabacco rilasciavano nell'aria e abbiamo questa violetta mirth nel cuore c'è lavanda vetive e vaniglia norlimbanol chiedo scusa e legno di guaiaco sono nel fondo questo è veramente tanto buono tanto 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 buono secondo me molto originale io sento un sentore di tabacco però particolare come se c'è quel classico sentore che mi dà quel senso del tabacco quando è un tabacco umido no io lo paragono spesso al tabacco del narghilè io insomma sono un'ex fumatrice io non fumo più da diversi anni ma quando ero ragazza io qualche anno fa andavano di modo a questi noccali dove si fumava il narghilè tu avevi così andavi con gli amici avevi questo narghilè potevi scegliere le tipologie di tabacco da 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 una specie di menù identico a quello delle bevande insomma per intenderci e poi insomma ti arrivava questo 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 tabacco tu lo mettevi nel narghilè poi insomma si fumava questi tabacchi erano molto umidi mi ricordo e molto molto profumati io quando sento profumi del genere mi ricordo proprio di questa tipologia di tabacco che secondo me è veramente molto buono e profumato io sento parecchio parecchio il sentore di violetta lavanda e vaniglia dentro questo questo tabacco pur essendoci comunque un sentore anche tabaccato proprio veramente un profumo molto originale e molto particolare io concludo qui con questo video dedicato ai profumi di floridia e vi invito comunque a scoprire il mondo di floridia sotto vi metto il link e tutte le varie cose che potete andare a scuriosare e eventualmente a prendere il sample kit per avere insomma un'esperienza più completa come sempre spero di avervi fatto compagnia e piacere con questo viaggio profumato che vengono fatte insieme vi saluto noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao